Costruiranno un nuovo stadio insieme Milano e Inter. Lo hanno chiarito il presidente rosso-nero Paolo Scaroni e la dinera azzurro Alessandro Antonello, entrambi a Losanna nella delegazione della candidatura di Milano Cortina per i giochi invernali 2026. Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni, secondo Scaroni, mentre Antonello ha precisato che tutto verrà fatto insieme. Sempre da Losanna, Scaroni, pur non rispondendo a una domanda sul ricorso del Milan al TAS, non si è sottratto a quella sul nuovo stadio. Bisognerà presentare la domanda, ma questa secondo lui sarà una procedura complicatissima. San Siro è inoltre inserito nel dossier di Milano Cortina come sede della cerimonia d'apertura. Per questo, sempre Scaroni, ha aggiunto che se si dovesse fare la cerimonia nel nuovo stadio sarebbe bello. Il capogruppo del PD al comune di Milano, Filippo Barberis, commentando in una nota l'annuncio dei vertici di Milano e Inter, che intendono realizzare un nuovo stadio accanto a quello di San Siro con il conseguente abbattimento della struttura, ha detto che per loro sarebbe meglio la riqualificazione dell'esistente all'abbattimento.